Buongiorno, buongiorno, benvenuti, siamo pronti, siamo quasi per partire con l'evento del Breakfast Run Benefit, di collaborazione con la Motodays, che livello, stanno arrivando tanti Sì, senti, senti Oh, il cavozzo è così bravo E che stanno facendo, ma sto fuori Bello, bello Allora, non ci va Allora, non ci va Ma ci va, vai Allora, non ci va Oh, lei sta facendo Oh, no, no Chiudi Chiudi Degli te lo go! G G! Eeeh! Eeeeh! Eeeh! 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 Eeeh!